Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cosenza, anzi ad Arcavacata, nell'Unical, nella sala stampa proprio dell'Unical per un convegno molto importante che si chiama Università Arcobaleno. E chi potevamo, anzi chi dovevamo intervistare se non la professoressa Giovanna Vingelli che da anni, oltre ovviamente delle tematiche LGBTQIA, si occupa di femminismo e a tutto tondo direi di diritti civili. Buongiorno Giovanna. Buongiorno a tutti e a tutte. Perché è importante questi eventi, diciamo, oltre che a sensibilizzare l'attenzione su tematiche che secondo me non tramontano mai, all'interno proprio di un ateneo dove si svolge la cultura? Allora, io ritengo che l'importanza dell'incontro di oggi sia in primo luogo che è stato organizzato da studenti e studentesse. È un'associazione studentesca che ha deciso di organizzare questa discussione coinvolgendo colleghi anche che vengono da fuori, esponenti dell'associazionismo LGBT locale. Quindi, secondo me, è assolutamente un segnale positivo in questo scenario, insomma, che non ci vede molto allegri e tranquilli, che è dei giovani, che ovviamente sono stati esposti a sollecitazioni, alcuni anche a una formazione su queste tematiche, che però decidono, che è un momento importante, un momento non particolarmente felice, di discutere e di aprirsi alla comunità universitaria su tematiche di questo genere. Tra l'altro, dicevi, è un periodo difficile perché noi usciamo proprio dalle elezioni che ci sono state in Italia e c'è, dobbiamo dirlo, una esultazione, si potrebbe dire, di partiti di estrema destra o comunque di Salvini, della Lega, che hanno ricevuto qui al sud proprio molti voti. Sarà difficile per la comunità LGBT far valere i propri diritti quando addirittura si è parlato di cancellazione delle unioni civili, almeno questa è stata una buttata forza elettorale, comunque se ne è parlato. Allora, io credo che siamo, e non da domenica, in un momento di reflusso. In una situazione anche un po' particolare, ambigua, contraddittoria, perché l'ultima legislatura ha visto, dal punto di vista dei diritti civili, certo degli enormi passi in avanti, dei necessari passi in avanti, il momento contraddittorio è che sembra che di queste conquiste assolutamente necessarie non sia rimasto un segno significativo, se non quello che riguarda l'evoluzione normativa assolutamente necessaria. Il momento di reflusso, cioè questo passaggio a destra, io credo che non venga da domenica, ma venga da molto lontano. Adesso non voglio fare l'analisi, ovviamente, del voto politico e di quello che è successo. Per rispondere alla tua domanda, io sono molto preoccupata, perché non tanto per le eventuali modifiche che si potranno fare, perché io credo che dai diritti non si torni indietro, e anche gli stessi elettori e gli stessi elettrici, che hanno sostenuto convintamente, forse di destra, forse populiste, poi alcuni avevano comunque nell'agenda politica la cancellazione dei diritti civili, altre hanno nell'agenda politica il pericolo gender, ovviamente. Io credo che dalla normativa non si tornerà indietro. Quello di cui sono assolutamente preoccupata è noi che ci occupiamo di diritti sociali, di diritti civili, in ambito più femminista, in ambito di diritti LGBT, dobbiamo fare un'analisi seria rispetto a quello che è successo, rispetto a quello che è stato il nostro ruolo nella società, quello che siamo riusciti a trasmettere e a comunicare, e le forme di resistenza che dobbiamo mettere tutti quanti e tutte quante insieme. Come dicevo prima, senza fare analisi del voto geopolitico, c'è ovviamente un vuoto che è stato colmato da forze razziste, sessiste, fasciste e populiste. Questo dobbiamo assolutamente fare un'analisi seria, di quali siano anche le nostre responsabilità rispetto a questo sfacelo. E non parlo qui di destra o di sinistra, anche se io ritengo che non siamo in un'autopostideologica e abbia ancora senso parlare di destra e di sinistra, ma non sto parlando di ideologie in questo momento, sto parlando di riflessioni e idee che abbiamo sul mondo, qual è il nostro orizzonte di senso. In due parole, quello che è stato sdoganato è un'idea del mondo, che ovviamente io credo che non ci veda assolutamente alleati, complici. È un'idea del mondo per cui le differenze sono viste come una minaccia, come un pericolo, tutte le differenze. Quindi il nostro compito, e parlo da persona che ovviamente è sicuramente attivista, ma ha un ruolo anche istituzionale nell'accademia, è di ripensare anche i modelli con cui abbiamo fatto formazione, con cui abbiamo comunicato alle nuove generazioni. Che cosa sono le differenze e che cosa significhi anche orientarsi nelle differenze. Non necessariamente adottare un modello o quanto sono belle le differenze, perché c'è anche ovviamente questo. Però secondo me abbiamo anche sbagliato a polarizzare l'attenzione su... Le differenze sono brutte, le differenze sono bellissime. Secondo me quello che noi dobbiamo analizzare è la complessità delle differenze. È come sia complicato, ma come sia assolutamente necessario trovare sinergia e ragionare sulle differenze e per arrivare a un momento di sintesi in uno scenario che ci vede volente o non volente tutti insieme parte di una stessa società. Dopo questa tanta analisi davvero precisa della professoressa Vingelli, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, anche perché adesso tra poco si svolgerà questo convegno proprio qui all'interno dei locali dell'Unical. Dicevamo Università Arcobaleno, Riccardo Cristiano, Liberi TV, Cosenza. Grazie a tutti.